Porto un drangheta politica che si ripropone. Questa volta sullo sfondo ci sono Cosenza, Rende, un bacino di criminalità che avrebbe ottenuto lavoro innanzitutto in cambio di voti. L'accusa di corruzione elettorale fa finire ai domiciliari l'ex sindaco di Rende, consigliere provinciale Umberto Bernaudo e l'ex assessore comunale Pietro Paolo Ruffolo, anche lui consigliere provinciale, entrambi PD. Sullo sfondo ci sono proprio le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di Cosenza del 2009 e non solo perché la tanto contestata cooperativa che avrebbe portato soldi e assunzioni alla cosca capeggiata da Michele Di Puppo, anche lui arrestato nell'ambito della nuova ed esplosiva pagina dell'inchiesta Terminator, è stata creata nel 2000. Era stata in varie maniere agevolata dalla stessa amministrazione locale non solo attraverso delle assunzioni di personale ma anche attraverso dei cospicui finanziamenti. La Rende Servizi SRL sarebbe stata un'infallibile macchina di consenso elettorale figurano nomi di pregiudicati nell'elenco ricostruito dalla DIA e dai carabinieri Michele Di Puppo e altri uomini dell'Andrangheta sarebbero stati coinvolti direttamente nella campagna elettorale dei due politici arrestati e un nuovo terremoto.